Ciao a tutti dal Tg regionale per sordi, apriamo con gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda i dati Covid in Toscana. Tornano sopra 300, non accadeva dal 30 settembre quando erano stati 323. Per la precisione sono 302 i nuovi positivi su 27.201 test, di cui 8.581 tamponi molecolari e 18.620 test rapidi. Dunque il tasso dei nuovi positivi sale all'1,11%. E domenica 31 ottobre terminerà l'attività vaccinale nel Lab Pellegrinaio, la seconda struttura pratese che ha affiancato il centro Pegaso 2 nella campagna vaccinale anti-Covid. Chiuderà dopo ben 169 giorni di piena attività, ininterrotta con un attivo di circa 100.000 somministrazioni e una media mensile di 15.000. L'apertura della struttura lo scorso 6 maggio è stata possibile grazie alla collaborazione delle associazioni di volontariato, Misericordia, Croce Rossa e Pubblica Assistenza. Perquisizioni ordinate dalla DDA di Firenze a Roma, Palermo, Rovigo, sono state passate al setaccio alcune abitazioni di parenti e personaggi legati ai fratelli Filippo e Giuseppe Graviano, boss dell'Andrangheta, oggi in carcere, condannati per l'omicidio di padre Pino Puglisi e per gli omicidi dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Si cerca un documento che lo stesso Giuseppe Graviano avrebbe affermato durante il processo Andrangheta stragista di possedere. Un documento che attesterebbe il legame tra suo nonno e Silvio Berlusconi. Un investimento da 20 miliardi di lire passati dalla famiglia Graviano e il leader di Forza Italia, indagato dalla Procura di Firenze per le stragi di mafia del 1993. La Toscana fu colpita il 27 maggio in via dei Gergofili a Firenze. Uno sportello Bancomat della Banca Monta dei Paschi di Siena è stato fatto esplodere la notte scorsa a Firenze in via Pistoiese. Il denaro contenuto all'interno è stato portato via sul posto intervenuti i carabinieri e secondo gli esami effettuati attraverso i video ripresi dalle telecamere di sorveglianza ad agire due uomini con il volto coperto. Giocavano online somme ritenute non consone alla loro dichiarazione dei redditi, risultato poi dai controlli infedele. E' quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Siena durante accertamenti sulle giocate in internet partite da un caso analogo. A finire nelle maglie degli accertamenti due giocatori residenti nel territorio della Miata, il cui volume delle giocate si sarebbe scostato in modo significativo da quello che era la loro situazione reddituale ufficiale. I finanzieri della tenenza di Chiusi, Scalo, li hanno quindi invitati a giustificare la differenza e gli interessati in sede di contraddittorio hanno dovuto ammettere che le somme impiegate erano superiori ai redditi dichiarati. E' tornato libero Don Francesco Spagnesi, l'ex parroco della Chiesa dell'Annunciazione alla Castellina di Prato, finito agli arresti domiciliari per traffico e spaccio di droga, è accusato poi anche di appropriazione indebita e altri reati. Il religioso, 40 anni, ha intanto chiesto di patteggiare una pena di 3 anni e 8 mesi. La Procura di Prato ha dato il consenso. La decisione spetterà al GUP l'udienza il 7 dicembre. A bordo di un gommone in prossimità di Punta Cappel Rosso, a sud dell'isola di Giannutri, nella provincia di Grosseto, navigavano a motore e detenevano attrezzatura per la pesca sportiva. All'interno però della zona tutelata, uno dell'ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. Per questo due persone sono state denunciate. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, scrive su Twitter commentando la notizia dell'inserimento nell'elenco delle opere previste dal PNRR delle due linee della tramvia. Dice una grande notizia, grazie al PNRR arrivano 200 milioni per realizzare entro il 2026 la linea 4.2 per Campi-Bisenzio e 150 per la linea 3 per Bagno-Arripoli. Cresce la tramvia e la mobilità sostenibile in città e poi ricorda meno inquinamento e più rispetto dell'ambiente. E rispondendo in consiglio comunale, l'assessore all'urbanistica del Comune di Firenze, Cecilia del Re, ha detto di confermare la determinazione del Comune a bloccare nuove attività turistico-ricettive all'interno del nuovo piano operativo, che già è in atto però per alcune trasformazioni dove il privato sta presentando dei contributi al piano operativo. In questi casi, sottolinea del Re, stiamo dicendo di non presentare contributi che prevedano trasformazioni turistico-ricettive. Si riferisce ad esempio a Villa Basileschi o all'ex IMSS in Viale Belfiore. La Toscana piace alla rete emerge dalla classifica della reputazione turistica delle regioni italiane stilata per il quinto anno consecutivo da Demoscopica. In vetta troviamo Trentino Alto Adige e Toscana. Il risultato si basa su oltre 688 milioni di pagine indicizzate, quasi 7 milioni di like e follower sulle reti sociali, poco più di 50 milioni di recensioni conteggiate, ben 450 mila strutture ricettive osservate. Quindi se il Trentino Adige è la regione più social d'Italia, la Toscana arriva al secondo posto. E ora diamo uno sguardo insieme alla previsione del tempo per domani in Toscana. Sereno o poco nuvoloso, qualche velatura in transito dalla costa verso l'interno, soprattutto nella seconda parte della giornata. qualche foschia, qualche nebbia mattutina su pianura e valli più interne. I venti sono i deboli, i mari poco mossi e le temperature minime in calo e massime pressoché stazionarie. Anche per questa sera è tutto, grazie per averci seguiti. Arrivederci. Arrivederci. Grazie.